Ho fatto come Allegri, ho tolto la giacca alla fine, adesso guarda, faccio un'altra cosa, così. Ordunque, ordunque cari fratelli rossoneri, siamo qui riuniti per celebrare quest'ultima partita del Milan all'interno della quale a dire vero di celebrare c'è niente a parte il risultato e a parte comunque la soddisfazione per aver fatto se non altro, come dire, un minimo del minimo del minimo del minimo di parvenza di squadra nel secondo tempo se non altro mettendoci quel carattere e quel minimo di minimo di minimo di lucidità che ci è servita per portare a casa la vittoria. Una vittoria non meritata da parte del Milan perché la Fiorentina ha giocato meglio di noi nel primo tempo perché la Fiorentina ha avuto occasioni nel secondo tempo, poi qualcosa l'abbiamo avuto anche noi ma c'era anche, dal mio punto di vista, si poteva fischiare quel rigore di Tomori su Iconè devo essere sincero perché ho parlato di VAR in questa settimana ho parlato di casi e di episodi, secondo me quello poteva essere rigore perché da quello che ho visto mi sembra che Tomori tocchi prima Iconè comunque entri in contatto con Iconè prima di prendere la palla quindi bisogna essere onesti e sinceramente dire che poteva starci calcio di rigore ma al di là di questo la Fiorentina non avrebbe meritato la sconfitta però, 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 ce la siamo andati a prendere ce la siamo andati a prendere e adesso possiamo fare un post partita che parte da un presupposto e cioè quello di considerare che la partita non sia stata vinta dal Milan so che è difficile perché poi alla fine il risultato è quello che fa pendere un po' la bilancia da una parte o dall'altra e fa cambiare l'umore chiaramente l'umore col quale andiamo alla mai come quest'anno benedetta sosta è buono tutto sommato perché restiamo a, anzi torniamo a meno otto dal Napoli perché evitiamo che qualcuno ci possa superare evitiamo, sperandolo, nel senso che l'avremmo poi sperato se non avessimo vinto, mi riferisco alla Lazio tra poco ecco, una partita che ci manda a una sosta benedetta con poche certezze se non quella del carattere che non abbiamo visto tanto a Cremona che abbiamo visto con lo Spezia che abbiamo visto nel secondo tempo questa sera pur tra mille difficoltà, pur tra mille situazioni pure anche tra mille cose e qui veniamo proprio al post partita fatto come se la gara fosse finita uno a uno la mia considerazione questa sera è che il nostro destino nella seconda parte di stagione è legato secondo me ad alcuni fattori che sono quello della preparazione che faremo al netto dei giocatori che vanno al mondiale e quello della capacità attraverso questa preparazione di recuperare quel gioco che ci ha caratterizzati e che ci ha consentito l'anno scorso di vincere lo scudetto naturalmente per fare questo il mister dovrà capire bene e leggere bene che squadra si troverà in mano dovrà capirlo perché adesso noi stiamo provando a fare abbiamo provato a fare un tipo di gioco che non è pienamente il nostro che non lo è per via delle idee che non lo è per via della condizione fisica che non lo è per via di tanti fattori le cose non riescono e se le cose non riescono sappiamo che sarebbe momentaneamente una buona idea quella di non dico accantonarle perché noi non è che possiamo mettere via il nostro modo di giocare però almeno cambiarlo un pochino mi riferisco a determinate situazioni una di queste ve la faccio vedere adesso perché credo sia il 6 quindi dalla regia per favore mettete il sovraimpressione numero 6 eccola qua, grazie, grazie regia questa è la Fiorentina ad un certo punto della partita non ha importanza quale ma tanto per farvi capire questa è la Fiorentina vedete? e questo invece è il Milan quindi già la differenza la vedete qua da una parte una squadra che fa 4-2-3-1 corta, compatta con i reparti vicini dall'altra parte una squadra invece così un po' sparpagliata sul campo allungata e quindi difficilmente capace di fare un gioco mi ero preso un appunto che voglio leggere perché siamo c'è una domanda giochiamo così perché siamo lunghi o siamo lunghi perché giochiamo così? dal mio punto di vista siamo lunghi perché giochiamo così cioè non riuscendo a in questo momento a fare certe cose perché non ci riescono perché ci hanno un po' preso le misure per tante ragioni e anche per una condizione fisica naturalmente e anche per la volontà di cercare maggiore copertura alla fase difensiva ci rifugiamo nel lancio lungo lancio lungo inutile perché innanzitutto partiamo dal presupposto che un buon lancio lungo dal basso da noi lo faceva Mnian è così Mnian non c'è un buon lancio lungo dal basso non lo fa quasi nessuno quindi il risultato è che hai perso il possesso del pallone nel primo tempo ne abbiamo visti a bizzeffe di questi lanci lunghi puntualmente controllati dalla difesa della Fiorentina e puntualmente poi trasformati in azione offensiva da parte della Viola questa è la prima considerazione poi c'è un'altra considerazione che è quella delle coperture degli spazi quando certi giocatori partono in avanti nel corso del primo tempo ho visto ad un certo punto Caluru trequartista cercare di andare a contrastare in aria una palla a coprirlo c'era Tonari se noi continuiamo con questo sistema se noi anzi ormai no ma se avessimo continuato con questo sistema in questa condizione avremmo continuato a farci del male poi c'è un'altra questione ed è una questione un po' filosofica mi passerete questa espressione la considerazione è quella legata alla ricerca ostinata della verticalità anche in questo senso l'idea di Pioli porta poi il gioco non potendosi costruire perché facciamo fatica a saltare la pressione avversaria quando abbiamo squadre che pressano l'abbiamo visto oggi con la Fiorentina ne avevamo parlato ieri ricordate facciamo fatica quindi si butta in avanti perché il nostro obiettivo è quello di arrivare velocemente dalla parte del portiere avversario in questa sera da parte di Terracciano che ha fatto la papocchia nel finale ma per arrivarci o lo fai attraverso una condizione fisica che ti porta ad aggredire alto a recuperare veloce il pallone a ripartire o lo fai creando superiorità attraverso non lo so gli scatti di Teo gli allunghi di Leao un brandias che salta all'uomo e poco altro oppure vai al lancio lungo queste sono le condizioni nelle quali ci siamo trovati stasera ma le condizioni nelle quali ci siamo trovati non erano supportate da tutto il resto cioè non erano supportate dalle gambe non erano supportate dalla testa il fatto che non ci sia in questo periodo una condizione psicologica pienamente allineata con quelle che sono le volontà del mister è data anche dal fatto che una volta che vai in vantaggio dopo un niente dovresti essere capace ormai ormai dico perché c'è uno scudetto sul petto comunque insomma un po' di percorso l'hai fatto dovresti essere capace di se non altro non dare la possibilità all'avversario di alimentare il fuoco del crederci e invece noi questa sera abbiamo buttato diavolina sulla Fiorentina la quale si è giustamente incendiata e è andata a trovare il giusto pareggio problemi legati anche a naturalmente situazioni personali cioè situazioni individuali Tomori del primo tempo questa sera è stato spaventoso nonostante Halloween sia ormai passato da diverse settimane è stato veramente inguardabile Tatarusano questa sera non ha dato sicurezza seppur qualche palla l'ha presa come quel tentativo di autogol di Calulu Calulu terzino destro secondo me fa un po' fatica per l'idea di Pioli e anche lui stesso non sa in questa condizione non avendo davanti un riferimento come può essere Salimekker ma come può essere anche Messias non sa bene che cosa deve fare andare restare da quel lato tra l'altro c'era anche Biraghi che dopo poco scappa via va a prendere il palo quindi situazione un attimo da capire tante cose questa sera abbiamo persino come dire riportato in auge i conè e vabbè che ha saltato più di una volta Tomori e questo è abbastanza grave per Tomori comunque detto tutto questo quello che ci portiamo a casa dalla partita di stasera è la convinzione che mai mai come adesso questa sosta sarà provvidenziale per noi provvidenziale per rimettere un attimo in chiaro le idee l'ho detto dopo la partita con la Cremonese lo ribadisco anche questa sera il mister deve capire se può recuperare quel Milan che ha in testa o se deve pensare in un altro non c'è nulla di male in nessuno dei due casi l'importante è che il mister abbia ben chiaro in testa la strada da percorrere quindi abbia ben chiaro in testa che se pensa e vede che può recuperare il Milan perfetto riprendiamo la marcia e io sono sicuro che potremmo vincere 5, 6, 7 partite di fila se invece vede che non ce la facciamo non ce la facciamo più perché non si riescono a mantenere gli equilibri perché nonostante il ritorno degli infortunati che comunque è un fattore importante in questo senso non si riesce più a fare un certo gioco si cambia questa sera abbiamo avuto ad esempio un apporto molto molto concreto da parte di Franks che è entrato molto bene e ha messo il cross al quale è nato la papocchia anche Dest tutto sommato è entrato bene forse interpreta in modo più vicino a quello che pensa Pioli il ruolo di terzino destro anche se poi Ciao e Tomori diciamo dei due è uscito quello che aveva fatto meno peggio anche se poi ha avuto ragione il mister perché Tomori salva sulla linea fa quella scivolata sui conè e chiude increscendo una partita da mani nei capelli nel senso che non sai neanche che cosa dirgli a questo povero cristiano ecco detto tutto questo resto dell'idea che non ho un'idea cioè non so se non so quale delle due strade sarà giusto percorrere quello che mi aspetto e mi aspetto da parte di Pioli è che abbia ben chiara la situazione che abbia ben lucida davanti a sé la così il panorama no che ci aspetta per andare a prendere una decisione una decisione perché poi voglio dire io sono assolutamente e piacevolmente colpito dalle sue intuizioni che sono state belle belle da vedere molto utili che ci hanno aiutato anche a vincere il campionato poi però arriva anche un momento nel quale le cose non vengono come come capita come si vuole e quindi bisogna cambiare un attimo il registro quindi anche cercando di essere in alcune situazioni un pochino più banali un pochino più banali vuol dire essere un po' più normali sul campo e affidarsi alla qualità dei giocatori a proposito di qualità dei giocatori questa sera De Ketterer non ha messo nemmeno un piede in campo forse è conservato per i mondiali nella speranza che la manifestazione possa dargli qualche minuto e un po' di coraggio bene questo è il post partita diciamo sul sull'1 a 1 poi c'è il post partita sul 2 a 1 il post partita sul 2 a 1 ci fa comunque chiudere l'anno con un mezzo sorriso con un risultato positivo e risultato importante perché è importante psicologicamente per quelli che restano che possono farsi un po' di vacanza adesso e poi la preparazione in vista della seconda parte con un risultato positivo come dire grattato con le unghie con i denti e preso all'interno di una partita dove è successo un po' di tutto e quindi rilassarsi un po' mentalmente per quelli che non vanno al mondiale e introdurre l'anno nuovo partendo comunque da una distanza di meno 8 rispetto al Napoli che io continuo a guardare come mio riferimento perché io non voglio come dire girarmi dietro io voglio guardare avanti io sono campione d'Italia e guardo avanti so che può sembrare l'ennesimo slancio ottimistico di un povero illuso però quello di questa sera non voglio posso e nemmeno credo sia pensare sia il Milan che vedremo nella seconda parte di stagione perché quello di questa sera è la versione grigia stasera avremmo dovuto giocare con le maglie del Salisburgo quelle grigie questa è la verità quindi giocando invece con le maglie rossonere abbiamo portato a casa una vittoria molto importante molto importante con alcuni episodi che ci hanno detto bene questa sera con altri che ci hanno detto un po' meno bene perché Rafa come dire ho tanto merito sul gol però poi dopo è diventato nella versione la palla l'ho portata io faso tutto mi sbagliando anche un gol abbastanza semplice per lui davanti alla porta comunque vabbè avremo modo magari nei prossimi giorni di fare un riassunto di questa prima parte di stagione non voglio poi non voglio eccedere con le critiche perché perché cerchiamo di fare analisi perché siamo comunque a novembre perché abbiamo tutta una seconda parte di stagione un pezzettino da giocare con obiettivi importanti subito da gennaio con la supercoppa italiana che è il primo trofeo e poi da vedere insomma che cosa succederà con questo Napoli per adesso gli stiamo lì alle calcagna più o meno insomma almeno 8 che è una distanza abbastanza di sicurezza per loro soprattutto visto come giocano e come rendono però siamo lì siamo lì al di là di tutto siamo lì in questa partita così brutta siamo comunque lì e tutto sommato direi che possiamo essere non soddisfatti andando a guardare tutto nell'insieme però almeno un po' così un po' sollevati dall'essere riusciti a buttare dentro quella benedetta palla ovviamente poi con tutta la consecuzione del VAR che aspettava eccetera perché vabbè siamo alle solite e quindi è andata così è andata così onore alla Fiorentina che ha fatto una buona partita ma lo sapevamo arriva da un momento felice giocava a mente sgombra l'abbiamo visto però insomma certe stagioni girano anche su episodi e su papocchie come quella di Terracciano buona serata a tutti appuntamento domani con la compagnia della live e noi più tardi con le pagende di Fiorentina di Milan Fiorentina ciao